Durante il Consiglio Metropolitano del 24 maggio si è parlato di scuole. Il consigliere delegato Massimo Fratini ha illustrato il punto sull'approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego e Città Metropolitana di Firenze per l'utilizzo dei locali sede degli uffici direzionali arti a fini scolastici. Una scuola che è il Pascoli perderà sette aule perché il Comune di Firenze abbatterà e ricostruirà la scuola Calvino che ospitava queste sette aule del Pascoli e quindi noi avevamo l'esigenza di trovare una sistemazione prima temporanea poi per fortuna definitiva alla succursale del Pascoli. Abbiamo individuato un percorso con Arti che è una società della Regione Toscana abbiamo fatto un protocollo perché Arti si sposti in uffici nostri di via Mercadante e noi possiamo usare l'attuale sede di Arti che è in via Mannelli con opportuni lavori per poterci mettere la scuola Cellini che è lì davanti e il Cellini liberare 10 aule in via De Bruni che potessero ospitare il Pascoli. Noi contiamo di riuscire a fare questo intervento per settembre ma nel caso in cui questo non ci riuscisse abbiamo la possibilità di prorogare fino a dicembre in modo che i traslochi necessari possano essere fatti entro Natale ecco entro le vacanze di Natale in modo che il primo dell'anno possano cominciare. Approvata all'unanimità anche una mozione di territori beni comuni con un emendamento richiesto da Fratini per la salvaguardia del diritto di assemblea degli studenti delle scuole superiori della città metropolitana di Firenze. È un diritto garantito da un decreto legislativo è un diritto che sempre più spesso è messo a repentaglio dalla numerosità degli istituti scolastici e dalla difficoltà a trovare spazi adeguati per queste riunioni. Non solo, ci sono difficoltà in alcune scuole anche per riunire semplicemente il collegio adecenti perché non di rado il personale docente supera le 100 unità. Con questa mozione che il Consiglio ha approvato all'unanimità anche con una integrazione proposta dal Partito Democratico che abbiamo accettato riconoscendo quello che già viene fatto impegniamo l'ente a dare un maggior contributo e un maggior anche organizzativo per reperire gli spazi con convenzioni e garantire questo diritto a tutti gli studenti e le studentesse.